Puntata speciale di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 11 dicembre e in replica domenica 13. Siamo presso lo studio medico Mandrillo del dottor Piermichele Mandrillo, International Excellence Center, situa Montegliassi in via Trieste 96. Parliamo di Eintech in odontoiatria e medicina estetica, Night Laser, un nuovo approccio terapeutico di eccellenza clinica al russamento notturno. Dottor Mandrillo, faremo una bella chiacchierata di una mezz'oretta all'incirca. Di cosa parleremo in particolare? Qual è il messaggio anche sociale che lei intende rivolgere? Parliamo di una novità terapeutica, dell'utilizzo del laser ad Erbium nel trattamento del russamento notturno e delle apree notturne. In funzione anche di un qualcosa di temporalmente correlato che avverrà in Italia dal 1 gennaio 2016, la nostra patente di guida avrà fra le altre valutazioni anche la componente legata appunto al russamento notturno e alle osas. perché si è visto che il 7% degli incidenti mortali in Italia a fronte di numeri endemici purtroppo sono causati da persone affette da questo problema del russamento notturno e delle osas. Quindi la proposta terapeutica è quella di un protocollo particolare del professor Jovanovic di Kozarak in Bosnia del trattamento ambulatoriale del russamento notturno con il laser ad Erbium. Bene, che dire, non vogliamo anticiparvi altro perché se no si perderebbe il gusto, l'interesse della trasmissione, però un aspetto importante da sottolineare, medicina e sociale andranno insieme a Braccetto. E allora non ci resta che metterci comodi davanti al televisore, canale 93 del digitale terrestre e goderci questo prezioso approfondimento di medicina. Buona visione.